Buongiorno Lai, 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 ciao, allora brava seduta, seduta, brava, dai la zampa, brava, buongiorno anche a te, vai a terra, vai a terra e rotola, tu sì che mi capisci, no il signor Fausto, mi raccomand, Lai, hai sentito anche tu, avete sentito un campanello, Lai, vi sicuro il signor Fausto che ha dimenticato le chiavi, vuoi sentire, uno, due, tre, e ventina, dove hai messo le chiavi, Lai, vieni qui, non andare gironzolando, se ti scopre il signor Fausto sono guai, arrivo, vieni qua, life, vieni sotto, vai a terra, a terra, resta qui, resta, non ti muovere mi raccomando, arrivo, arrivo, poi mi raccomando non dite niente, che life è lì, se non sono guai mi licenzia, promesso.